Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto proiettori Umicroid Teatro Domestico HD 1080 PLC DLE di proiettore TV analogica EU. Specifications Interface 2 HDMI 2 USB ports VGA YPBPR S-Video Composite AV Audio Out Analog TV Built in Imaging Technology TFT Single LCD Panel Brightness Lumens 2200 Lumen Native Resolution 800X600 Maximum Resolution 720p 1080 Gennaio 1080p Best Image Sise 40-100 Contrast Ratio 1000 Undisplayable Colors 16.7.024 Bit RGB Video Compatibility Pal Digital Input HDMI Input for True Digital Connections from Bot PC or Video Source USB Support 2 Lire High Speed Input Support 1080p Picture Video Audio Format Projection Method Front Rear Chilling Mount Tabletop Image Zoom Electronic Horizontal and Vertical Flip Image Zoom OSD Language Total 22 Languages Canadani Languages Customs and Require Noise Level Power Supply AC 90-240 Volt 50-60 Hertz Power Consumption 70 Watt Dimensions 300X 240X 100 Millimetri Color Black Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon E.T. Clicca sul link nella descrizione sottostante Grazie per la visione